La Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno dato esecuzione al provvedimento di confisca di beni di primo grado emesso dal Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, su proposta avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Nissena nei confronti di tre imprenditori di Gela, noti nel settore immobiliare e soprattutto in quello della commercializzazione di automobili, anche di lusso. Gli imprenditori, attualmente imputati in un processo per concorso esterno e in associazione mafiosa, sono stati ritenuti soggetti di qualificata pericolosità sociale. In particolare sono emersi elementi per ritenere la contiguità e la complicità degli stessi con organizzazioni criminali riconducibili a Cosa Nostra di Gela. Le indagini di natura economico-patrimoniale hanno fatto emergere il reinvestimento da parte degli indagati di ingenti capitali, ritenuti dal Tribunale in materia di prevenzione di illecita provenienza in numerose società formalmente intestate familiari dei tre imprenditori, attive nel settore dell'edilizia e della rivendita di automobili. Il provvedimento ablativo di 65 milioni di euro circa trae origine dall'articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta ed è stato preceduto dal sequestro degli stessi beni eseguito nel febbraio del 2021. Nell'ambito del processo penale, il GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere dei tre imprenditori, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta nell'ambito dell'operazione Camaleonte per il reato di concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso, in quanto, recita l'ordinanza del GIP, pur non essendo stabilmente inseriti nel sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra, operante in Catania, Gela, Vittoria e territori limitrofi, concorrevano nell'associazione mafiosa suddetta, contribuendo sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi di tale organizzazione mafiosa e segnatamente della famiglia mafiosa di Gela. Il provvedimento di sequestro riguarda l'intero compendio aziendale e il capitale sociale, 9 società, 31 terreni nel territorio di Gela, nel Nisseno, 186 fabbricati sempre a Gela, Marina di Ragusa, in provincia di Ragusa e Vittoria, nel ragusano e 23 rapporti bancari, finanziari e o polizie assicurative.